A Cazzano Sant'Andrea l'amministrazione comunale aveva ipotizzato di invertire il senso unico nella zona del nuovo parcheggio sotto l'oratorio però con una raccolta firme i residenti delle vie limitrofe si sono detti contrari. Che cosa avete deciso? Abbiamo deciso di mantenere il senso unico così com'è e di valutare nei prossimi mesi con l'apertura del nuovo parcheggio come sarà la viabilità e soprattutto l'ingresso dell'oratorio. Avevamo si ipotizzato anche con la commissione urbanistica, ci eravamo già trovati un paio di volte, di invertire il senso unico e la decisione nostra era quasi arrivata in tal senso. Poi effettivamente c'è stata questa raccolta firme, abbiamo fatto una serata pubblica in cui c'è stato espresso forte parere contrario dai residenti di via Reggiolo che sta sotto via Torre soprattutto in considerazione delle problematiche eventuali che sarebbero sopraggiunte a loro nel periodo invernale. A fronte di questa richiesta ne abbiamo riparlato in gruppo e abbiamo deciso mettendolo anche i voti dentro del nostro gruppo momentaneamente di lasciare le cose come stanno quindi il parcheggio è aperto e l'ingresso del parcheggio è regolamentato dall'attuale senso unico, quindi nessun problema. Fra qualche mese valuteremo comunque anche in base a come andranno le cose perché non è che avessimo voluto cambiare tanto per cambiare, c'era una ragione legata all'ingresso di questo nuovo parcheggio. Secondo alcuni di noi, secondo anche il sottoscritto, sarebbe stato auspicabile l'ingresso nel senso contrario, però nulla vieta che fra qualche mese valutiamo le cose come saranno andate e magari lasceremo tutto così, nessun problema. A me interessa decidere in base a quelle che saranno le esigenze del paese di Cazzano, se saranno quelle attuali e saranno anche uguali a quelle dei residenti di Vareggiolo, tanto meglio, non è mia intenzione fare nessuna polemica, era solo e esclusivamente legato a un discorso di ingresso del parcheggio all'oratorio, nessun problema. A proposito di parcheggio, nuovi posti auto a disposizione della comunità di Cazzano, questo spazio di sosta sarà poi regolamentato in qualche modo? Ma inizialmente appunto la nostra idea è quella di aprirlo senza nessuna limitazione di parcheggio. Essendo un parcheggio vicinissimo al centro storico di Cazzano, praticamente nel centro storico di Cazzano, e avendo 25 nuovi posti auto più un posto auto per disabile riteniamo che risolverà il problema della via centrale di Cazzano che oggi purtroppo ogni tanto chi va nei negozi, chi va nei bar giustamente non trovando parcheggi lascia anche l'auto magari con le quattro frecce piuttosto che avendo a disposizione questo parcheggio riteniamo che risolverà tutte queste problematiche. Mi piacerebbe che i nostri concittadini si abituino tranquillamente a questo parcheggio se poi vedremo che con la libertà totale ci sarà qualche problema di chi lascerà la macchina per giorni, se non settimane o cose vedremo di regolamentarla probabilmente anche con un disco orario, però sarà da valutare più in là anche quello.